Qui Prepper, datti una mossa. Devi sistemare le telecamere del supermercato. Guadagnati la pagnotta. Dami un seconde, l'Altori Saracinevski. 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 Un seconde, l'Altori Saracinevski. Un seconde, la 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 la. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.